Il nuovo partito socialista di Stefano Caldoro comincia a lavorare insieme ai vertici del popolo delle libertà per la composizione della coalizione. Ancora da risolvere due nodi, l'MPA e l'Udc. La Colomba ha candidato alla presidenza della regione Riccardo Villari. Si tratta però di una provocazione. Infatti l'MPA nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare l'alleanza con il PDL a sostegno della candidatura di Caldoro. L'Udc non si è ancora espressa ma il capogruppo del nuovo PSI Massimo Grimaldi è fiducioso. È convinto che in poche ore i moderati rispetteranno l'alleanza tradizionale, quella che ha consentito alle ultime provinciali ed amministrative la netta vittoria del centrodestra in Campania. Ascoltiamolo ai nostri microfoni. Si spera di ripartire con quelle alleanze che nelle ultime elezioni provinciali e amministrative hanno vinto le elezioni nell'80% dei comuni a partire dalla provincia di Napoli, dalla provincia di Salerno e dalla provincia di Avellino. Quindi insieme con l'MPA, insieme con l'Udc, insieme con gli altri alleati di coalizione con i quali stiamo governando queste città. Quindi questo è l'auspicio dell'alleanza ripartire da qui. Vedremo nei prossimi giorni, credo che ci saranno incontri e credo che anche rispetto all'Unione di Centro, al partito di Pierfaridiano Casini, possiamo quasi ritenere che credo anche perché vi sia stata un'espressione positiva sulla candidatura di Stefano Caldoro, avete letto le agenzie di Cesa e di Buttiglioni ieri, credo che siamo quasi alla fine.